La grazia delle ragazze del nuoto sincronizzato, la forza dei ragazzi della Canoa Polo, l'eleganza degli abiti stile Capri e delle magliette dipinte dall'Ara Barbara Urso. Nello stadio del nuoto a Bari, le ragazze di Carmen Martorana sfilano su una passerella montata sull'acqua. È uno spettacolo a tutto tondo, quello organizzato e presentato dalla giornalista del gruppo Norba, Daniela Mazzacane, una serata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Un'ora per se stesse una volta all'anno significa poter evitare grandi problemi. Il cancro alla mammella esiste, è una malattia frequente, ma si può combattere ma soprattutto vincere. Per questo bisogna prendere una banale abitudine, quella di farsi una mammografia e una visita e un'ecografia dall'età canonica, dai 30 anni visita ed ecografia e dai 40 mammografia ed ecografia. Non ci vuole molto, bisogna pensare a se stessi, alla propria famiglia e perché no alla società, visto che la donna è il fulcro della società. Le protagoniste del galà hanno indossato i gioielli di Rosa Ladisa. L'appuntamento per tutti è fissato domenica mattina con la Race for the Cure. Quindi ci vediamo tutti a Piazza Prepertura insieme come al solito.